Tre volte rifatti gli impianti qui davanti in Italia e poi ho detto a mia moglie rimango senza denti perché non è possibile soffrire. Stando a Roma ho avuto delle esperienze un po' con i dentisti che mi hanno fatto degli impianti che mi sono caduti e così sono andato a vedere sul sito e è comparso così all'improvviso, clinica dottor Palmas. Sapendo che dottor Palmas è un nome italiano, un nome di Sardegna e iniziamo a fare questa avventura. Arrivato qui poi ho visto che mi trovavo a casa mia. Mi trovavo a casa mia perché quando sono arrivato all'aeroporto addirittura mi hanno chiamato per nome. Mi ha portato qui in clinica a vedere la clinica, tutti mi hanno salutato in italiano. Io non ho difficoltà con nessuno, né con i dottori né con le ragazze con tutto, tutto il personale è disponibile e importante. È importante per noi che venimo da fuori perché non ci abbiamo... Purtroppo la lingua è tanto. Ho trovato gente veramente in gamba qui in Romania e lo posso dire forte perché oggi la mia grande soddisfazione di più di tutti è andare a mangiare con i denti. Tutti come mi incontravano, ma cosa hai fatto? Come hai fatto? Dice, hai cambiato il viso? E tutti mi dicevano, sai, pare che sei più giovane. E io rivo... Allora a tutti la stessa cosa. Guardate, io sono andato in Romania, sono andato dal dottor Palmas per mettermi i denti perché qui in Italia non ho avuto l'opportunità di farlo perché ho avuto dei problemi e allora ho cercato qualcosa. Ho cliccato a una pubblicità di cui mi diceva clinica del dottor Palmas e lì è successo tutto. I denti vengono prodotti con i computer quindi non sono denti come li fanno da noi in Italia a mano che non sono... Questi sono denti veramente programmati. Programmati, vengono costruiti con i computer e vengono solamente abitati in bocca però quando ce l'hai in bocca sembrano tui come se tu li avresti già. Sono denti che tu ha... Te li senti tuoi proprio perché sono fatti bene. Sono fatti bene poi... Ma tutte le qualità. Non solo che uno ti mette quella costosa o non costosa sono uguali. Io consiglio a più persone, a tante persone di vivere questa esperienza che ho vissuto io perché è importante. Che non si trovano dentisti di questa portata da noi.